La tristrutturazione di un appartamento si parte sempre dalle demolizioni. Qua abbiamo la masca e il bagno, qui c'era la cucina e faremo uno studio. Qua dove invece andiamo a costruire la cucina, dal soggiorno, la cucina verrà fatta lì, la scala verrà demolita e riportata per accedere al piano sottotetto in un'altra posizione. Come tutti i nostri interventi andremo a cambiare i seramenti ormai datati e li faremo sempre in legno e triplo vetro e faremo un isolamento di 14 cm in fibra di legno in modo da isolare tutto in volcro. Andiamo a vedere il bagno, che è la cosa che di solito viene demolita per prima, eccola lì. Qui faremo la nuova scala e collegheremo il sottotetto. Come sempre l'obiettivo è quello di ricercare e andare all'appartamento una nuova assolutà, un nuovo comfort in modo che gli occupanti stiano bene nella propria casa. Ciao, alla prossima!